Il Comune di Agrigento oggi si è impegnato ufficialmente a regolarizzare i contrattisti. Come stanno le cose effettivamente? Oggi il lavoro sarà quello insieme di dover riuscire a individuare il percorso per la stabilizzazione. Come si fa questo? Abbiamo convocato un tavolo di cui faranno parte anche i lavoratori che si dovrà misurare con quelle che oggi sono normative nazionali e regionali rispetto alle quali trovare insieme da un lato la capacità di continuare a tenere in ordine i conti e dall'altro lato attraverso la fuoriuscita, i pensionamenti che ci saranno e che già sono in essere riuscire gradualmente a fare entrare questo personale finalmente a tempo indeterminato all'interno della struttura comunale. Al momento quanti sono numericamente contrattisti in servizio al Comune di Agrigento? Noi parliamo di circa 200 unità che svolgono il proprio servizio in tutti i settori comunali su complessivamente circa 700 unità complessive. La risoluzione del gravoso problema del precariato oggi da cosa dipende? Oggi siamo a una situazione in cui la legge regionale con le leggi regionali circolari e esplicative è arrivata al punto in cui ha pianificato ormai tutta la procedura della stabilizzazione del personale precario di tutta la Regione. Diciamo sostanzialmente adesso tocca agli enti locali trasformare i contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Siamo ormai arrivati al punto in cui il Governo nazionale non deroga più assolutamente, non tollera più contratti a tempo determinato, non devono più esistere. L'amministrazione ci mette a disposizione la dirigenza con la quale poter pianificare questo processo e finalmente dare a 250 famiglie una stabilità reale. Oggi ci sta discutendo se l'amministrazione ha rispettato dei parametri necessari. Quando parli il Sindaco ci ha promesso che si istituirà già da subito un tavolo tecnico tra i rappresentanti e l'amministrazione e i dirigenti per verificare queste normative perché quando parli c'è una diversità di normative, tutti metterle insieme per trovare un percorso per poter arrivare all'obiettivo finale che entro il 31-12-2011 si deve presentare alla Regione questo piano di stabilizzazione definitiva.